3, 24 e 618 E' stato con il numero 504 e la volta di Remo Matricardi, Publimotor BXX19 Altro intertempo, 2, 24 e 425 per Zazzetta, è il secondo intermedio Terzo intermedio per E' intanto numero 516 Il secondo intertempo, 2, 09 e 0, 0, 8 Quindi è lui che guadagna il miglior tempo al secondo intertempo Con la Picchioni con il numero 516, 2, 09 e 0, 0, 8 Intanto con il numero 503 è Luciano Di Fulvio Con la BXX19 dall'Ara che parte in quest'estate Grazie a tutti Grazie a tutti